Vivere il Carnevale di Viareggio da protagonista, essere un soggetto di un bozzetto, avere una propria caricatura in cartapesta o cogliere al volo l'offerta di acquistare due biglietti al prezzo di uno per l'ingresso al corso mascherato. Ecco alcune delle possibilità per approfondire la conoscenza del Carnevale che la Fondazione mette a disposizione con il primo progetto di crowdfunding realizzato con il supporto di Cravo Chianti in collaborazione con Eppela, prima piattaforma italiana di raccolta fondi basata sul sistema delle ricompense. Ultimamente Chianti Banca ha fatto un sviluppo importante sul territorio, non è più quello dei comuni, o il territorio limitato dal Chianti, ma un territorio diventato un po' la Toscana. E quindi perché no, perché non sposare un evento come quello del Carnevale di Viareggio che è significativo per il territorio della Toscana. E abbiamo scelto una soddisfazione con gioia di essere il mentor per un progetto di crowdfunding che è in questo momento in rete sulla piattaforma di Eppela. La raccolta fondi attraverso il web, chiamata Scopri il Carnevale di Viareggio, è finalizzata a integrare il budget previsto dal bando di concorso riservato ai 15 giovani costruttori che gareggiano nella categoria delle maschere isolate affinché questi possano investire nella realizzazione delle loro opere che sfileranno al prossimo Carnevale. Ci aspettiamo innanzitutto un riscontro da parte della città che sia dalla nostra parte che veda il futuro del Carnevale e lo possa aiutare innanzitutto, prima di parlare di una situazione finanziaria.